Vada professoressa. Ecco, mi raccomando di essere bravi. Ricordatevi che state costruendo il vostro futuro. Quindi tutto quello che fate è importante perché bisogna credere in quello che si fa per riuscire bene. State bene e usufruite di tutti i vantaggi che la scuola può dare nella preparazione morale, psicologica e fisica. Auguri per il vostro futuro.